Dopo anni di attese e invocazioni a Ladispoli nascerà un commissariato di Polizia di Stato. La decisione è arrivata dal Viminale nel corso del Comitato Nazionale sulla Sicurezza che ha individuato la città tirrenica quale sede per l'istituzione di un presidio di polizia. Le città di Ladispoli e Cervetri oggi contano più di 80.000 abitanti e i fatti criminosi tra furti, droga, violenze e reati al patrimonio sono in forte crescita rispetto a 20 anni fa. Più controlli e prevenzione dunque nel territorio che va da Ladispoli al comune di Fiumicino in quelle periferie troppo spesso dimenticate. La notizia è stata accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale di Ladispoli. Il consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Ardita aveva presentato mesi fa una mozione dopo anni di battaglie e appelli al governo. Dunque tra qualche settimana nei primi mesi dell'anno nuovo il commissariato di Polizia sarà operativo con molta probabilità della sede inaugurata recentemente della Polizia Municipale costretta ad emigrare altrove.